L'inizio dell'attività militare cominciò praticamente tra la metà di ottobre, forse anche un po' prima in alcune zone e poi. Però l'obiettivo e la preparazione nostra era l'obiettivo delle supprezioni, solo che gli alleati tardavano ad arrivare e cominciavano gli attacchi prima contro i fascisti e poi contro i tedeschi. In questa attività alcuni di noi dimostrarono una particolare fermezza, noti di presenza di spirito, di attitudine alla guerra e furono raccolti nei GAP, i gruppi di azione patriottica. Tra di noi c'erano molti ufficiali, però non è che se tu fossi stato ufficiale potevi aspirare a diventare, ad avere un grado. Cioè erano gli uomini che decidevano quali fossero i loro comandanti. Difatti quando io andai nella diciannovesima ed ero sostenente con un'esperienza bellica in Russia, mi trovai che il mio comandante era uno che non aveva fatto la guerra ed era un caporale di sanità, però era un uomo straordinario, veramente eccellente. Escezionale anche dal punto di vista dell'intuito militare di quel tipo di guerra che non aveva niente a che fare con la guerra comune. Lo stesso Kessel, quando dettò le sue memorie o scrisse le sue memorie, disse che la guerra partigiana era diventata un secondo fronte e dovette impiegare da 7 nell'ultimo momento fino a 14 divisioni tolte dal fronte. Non è vero che non ebbe un effetto militare la resistenza, ebbe un effetto militare anche per queste ragioni. Roma si difese bene in quell'occasione perché malgrado la fuga del re e dello Stato Maggiore, lo squagliamento di gran parte delle forze militari che pure erano in Roma, tuttavia soldati, esercito e popolari e civili. Si imbatterono non solo a Porta San Paolo, ma nel giro di tutta la città, da Monte Rotondo a Palidoro, a Ladispoli, a Monterosi, tutta la cerchia di Roma. Ci furono dei presidi dei presidi militari che reggirono in periodo dei reschi di passare, appoggiati dalla popolazione. Tanto è vero che sono morti in quei due giorni, la battaglia per Roma durò due giorni, il 9 e il 10. Cominciò la sera dell'8 praticamente, le prime scarabucce si verificarono la sera dell'8, ma soprattutto cominciò con il giorno del 9 e il giorno del 10. Il re e il badoglio e lo Stato Maggiore si erano già andati per la via Tiburtina verso il porto di Pescara. Roma si difese per due giorni e ci furono in quei due giorni 650 morti italiani. Melser, che era il comandante militare della piazza di Roma, a Roma fu dichiarato territorio di guerra, soggetto alle leggi di guerra germaniche. Melser fu nominato comandante della piazza di Roma, tra l'altro lui si proclamava l'ottavo re di Roma. Lui disse, una volta incazzatissimo, ma mezza Roma nasconde l'altra metà. Non dobbiamo dimenticare, per quello che riguarda la gente comune, la popolazione, che in Italia il rapporto con i tedeschi è sempre stato poco positivo. Perché io, in ricordi che ho dell'infanzia, mio padre mi raccontava della prima guerra mondiale, quindi c'era questo concetto dei tedeschi come il delico storico. La cultura, l'idealità cristiana e cattolica era proprio nel rifiutare l'idea fascista e nazista dello Stato, cioè l'idea hegeliana del primato dello Stato nel quale l'individuo, la persona, si sarebbe dovuta identificare. Ma il problema è anche quello del dolcevismo, dello stalinismo. Cioè il primato dello Stato, che annulla la personalità individuale in qualche modo, la riassume, e lo Stato nel fascismo si rivelava come l'elemento base espresso da un uomo che a sua volta esprimeva lo Stato. Pensate l'aberrazione ideologica di una cosa di questo genere che era il duce come in Germania era il Führer. Ha fatto il balina, ha fatto il vanguardista, lo Stato educato alla violenza, dal fascismo. Non so, sembra un misticcio, ma l'usanza era fare appugni quasi tutti i giorni tra compagni di scuola. La rottura mia personale con il fascismo avvenne come avvenne in tanti giovani con la guerra e con la popolazione italiana. reagì a tutto questo, soprattutto alla guerra e maturò l'antifascismo rapidamente. Un mio amico era d'estate, un mio amico un po' più grande di me, mi disse, ma tu sei fascista. E io mi dissi, certo che può che sia, sono fascista. Ma perché tu sei d'accordo con questo, questo, questo e questo? Io non sono d'accordo. E allora? Eh, mi dissi, ma il duce non lo sa. Il duce non lo sa e questa è stata la lampadina. È stato il momento in cui mi si è accesa la lampadina e il duce non lo sa ma che duce è allora? Se non sa quello che io, che sono un ragazzino di quindici anni, vedo. E poi a questo si aggiunga l'approfondimento degli studi, una serie di cose alla fine. Al terzo liceo già ero deciso, già alla fine del secondo e al terzo liceo già ero deciso, soprattutto nello studio della filosofia moderna, diciamo partendo da, perché per me ha avuto una rossa influenza spinosa, ma dallo studio della filosofia moderna e dell'economia politica che ci facevano studiare e degli scritti e discorsi di Monsolini che ci facevano studiare. E io mi desi conto che c'era qualcosa di marcio. Intanto e contemporaneamente c'era stata la guerra di spazi. Dico, ma come noi siamo per l'ordine e ci schieriamo, ecco un altro dei primi momenti di dubbio pesante, e ci schieriamo dalla parte di insorti contro il legittimo governo di un paese. Il mio padre, questo nella sua vita, perché se si leggono anche gli scritti praticamente, da professore, da piosope, eccetera, aveva, ripeto, non una fede religiosa, ma una fede degli ideali. Gli ideali diceva che rappresentavano tutto nella vita di un uomo. E per questi ideali praticamente si doveva sacrificare tutto. Tutto. Questo era il concetto. Grazie.